Un po' di neve fresca Un'altra nebbicata a Fregento 13 febbraio 2020 Voglio recitare Ave Maria per voi Mentre cammino sulla neve Ave Maria piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amo Ave Maria piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amo Ave Maria piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amo Il Signore vi benedica Madre e Figlio e Spirito Santo Amo Ciao, Ave Maria Adesso è l'ora della nostra morte 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 Adesso è l'ora della nostra morte